Per accedere al gruppo consulente ricco, consulente povero, il sistema Facebook mi permette di porvi tre domande una delle quali riguarda l'argomento che vorreste approfondire. Bene, la maggior parte delle richieste riguardano l'acquisizione dei clienti come acquisire clienti, il marketing per acquisire clienti, strategie per acquisire clienti le vostre domande si aprono in modo diverso ma si chiudono tutte con la stessa parola, la parola clienti. A questo punto direi di cominciare a parlarne, cioè come acquisire clienti. Naturalmente stiamo parlando di consulenze high ticket, quindi cercheremo di capire come acquisire clienti nei mercati autospettivi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS